L'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino attiva a Monbaroccio il servizio di infermiere di famiglia e di comunità. Si tratta di un ambulatorio istituito all'interno della struttura sanitaria Bricciotti che grazie alla presenza di infermieri garantirà continuità di cure erogabili direttamente nel luogo di residenza o controlli periodici al fine di ridurre per quanto possibile il ricorso a spostamenti fuori dal territorio comunale. Mi permetto di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il buon esito di questo percorso a cominciare dalla Regione Marche nelle figure del presidente Acoroli e dell'assessore Salta Martini passando per il direttore generale Carelli, la dottoressa Rasori, la dottoressa Esposto che è stata tra le prime a promuovere sul territorio monbaroccese questa nuova iniziativa atta alla attività infermieristica di prossimità. E con questi l'attività svolta dall'assessore Franca Rossi che si è prodigata fin da subito, è un anno che lavora l'assessore sul progetto, nonché l'assistente sociale e la grande collaborazione dei medici di medicina generale di Monbarocci insieme al nostro farmacista dottor Mazza. Tutta una squadra che si è messa in piedi, che in questo anno e mezzo ha lavorato per ottenere questo importante risultato che porta finalmente in via sperimentale naturalmente la sanità all'interno delle abitazioni, all'interno delle case, all'interno di quegli utenti e pazienti che hanno necessità di avere quell'assistenza domiciliare. A Monbaroccio l'ambulatorio dell'infermiere sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì con accesso tramite ricetta del medico di medicina generale per richiesta di prestazioni infermieristiche. Sarà attivato anche un numero telefonico disponibile in fasce orarie prestabilite. Un'infermiera di comunità ogni 3.000 abitanti, Monbaroccio ne rappresenta 2.166, quindi potrebbe essere ampliato il servizio anche sulle aree limitrofe, penso Sant'Ametratulile piuttosto che Monteciccarto, sperando di poter sostenere il percorso intercomunale e naturalmente nel momento e nell'ottica di un servizio propedeutico al territorio e funzionante per il territorio potrebbe essere il primo passo anche per estenderlo a tutto il distretto di Pesaro Urbino, nonché, mi auguro, a tutta la provincia. Perché potrebbe essere una risoluzione anche per tante problematiche, penso a quelle legate al pronto soccorso che vedono flussi all'interno del pronto soccorso legati a codici bianchi o verdi fino a un 40-50%. Questo potrebbe rappresentare una riduzione anche di quei flussi per dare poi maggiore attenzione alle pesità che riguardano le maggiori difficoltà all'interno dei pronti soccorsi e degli ospedali.